Al via il primo giorno di scuola per circa 76 mila studenti reggiani alle presi assieme al personale coi problemi dei tagli e degli accorpamenti degli istituti scolastici. Orazione funebre del sindaco Graziano Del Rio nel giorno dei funerali dell'ex primo cittadino Ugo Benassi, morto a 83 anni. Nuova scossa di terremoto alle 7.34 del mattino con epicentro Canossa, San Polo e Vetto, magnitudo 3.2 della scala Richter. Donna di 60 anni aggredita da sconosciuto in centro a Scandiano mentre passeggiava col marito, rapinata, cade a terra e viene portata in ospedale. Torna a Reggio per la terza edizione il Festival Francescano dal 23 al 25 settembre tra spiritualità, cultura e spettacoli. Lunedì 19 settembre, buona serata a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Dunque da oggi sono tornati tra i banchi 76 mila studenti ma la scuola offre meno servizi per colpa dei tagli. Sentiamo tutti i dettagli da Isabella Trovato. Primo giorno di scuola oggi per 76 mila studenti reggiani degli asili, delle primarie e delle secondarie. Secondo i dati forniti dal provveditorato agli studi, in 15 mila dovranno affrontare l'effetto prima classe. 5 mila per gli elementari, 4 mila e 900 per la prima media e il primo anno di superiori. Con tutto quello che ciò comporta dalla presentazione dei docenti alla scoperta dei nuovi compagni. Preoccupate? Non abituate. Non siamo più abituate ad andare a scuola quindi ci sentiamo un po' perse. A che ora la sveglia stamattina? Le sette. E' stato drammatico? Abbastanza, non volevo staccarmi dal letto era troppo. La preoccupazione dei tagli alla scuola? Beh anche quella diciamo che ci preoccupa abbastanza. Che spirito affrontate il nuovo anno scolastico? Noi iniziamo come va, va. I tagli vi preoccupano? Avete paura di avere meno dalla scuola? Un po'. Ma abbastanza. Che cosa in particolare? Ma dipende un po' la scuola, un po' i professori, un po' gli amici nuovi, questa roba cosa. In 4.500 hanno invaso il polo scolastico di Via Macallè che inaugura il neonato polo tecnologico che comprende l'Istituto Nobili, il Galvani Moda e i Lombardini. Come si riflette tutto questo sull'offerta scolastica? Diciamo che sarà un servizio più scarso, inferiore. Qualcosa si percepisce già. Perché quando mancano i fondi occorre qualche attrezzatura, qualcosa si guasta. Ti dicono no, non è possibile perché non ci sono i fondi e quindi lavoreremo con quello che avremo. Il terremoto non dà tregua dopo le oltre 70 scosse registrate dall'8 settembre. Nuova scossa avvertita in modo sensibile dalla popolazione della bassa reggiana alle 7.34 con magnitudo 3.2. Epicentro nei comuni di Canossa, San Polo e Vetto. La stessa zona che dall'inizio di settembre è teatro di uno sciame sismico iniziato dopo la prima scossa di magnitudo 3.7. Ed ora voltiamo pagina in Sala del Tricolore, orazioni funebri per l'ex sindaco Ugo Benassi. Prima i cittadini, poi le istituzioni e gli amici che hanno condiviso la passione politica a ricordare la sua figura e a dargli l'ultimo saluto. Nella giornata di lutto cittadino, l'austere e silenziosa Sala del Tricolore ha dato l'ultimo saluto all'ex senatore Ugo Benassi, scomparso a 83 anni e che fino all'ultimo si sentì soprattutto sindaco, come è stato ricordato nelle orazioni funebri. Deceduta un anno dall'altro sindaco, Renzo Bonazzi, era comunista ma non fanatico dell'ideologia. Criticato dal PC per la sua amicizia con Achille Maramotti, apparteneva a quella stirpe di politici convinti che la politica fosse servizio alla gente, impegno e serietà. Aveva sofferto per la fine del comunismo, lui capace di portare Reggio a dialogare col mondo. Oggi soffriva per la situazione politica così estranea dal suo modo passionale e umano di viverla. Prima di tutto amministratore, lavorò per sviluppare l'urbanistica e le scuole. Era padre e marito devoto. La moglie Lucia, scomparsa da qualche anno, era il suo riferimento. Tra gli ultimi desideri di Benassi, che non è riuscito a realizzare, quello di accompagnare la nipotina al suo primo giorno di scuola, è morto poche ore prima. Ora di lui rimangono i suoi libri, l'ultimo sarà presentato postumo e il suo esempio, come ha ricordato il sindaco Graziano Del Rio. Amministratore, rimanendo tornato nelle sociali forze, hanno decisioni complesse per scuola nazione, attraversata da tre menti, da separazioni, anni di piombo e di violenza. Portava dentro il secondo buon signore, il tuo primo partiziano delle montagne, lo radicato l'antricismo, che ha fatto un nuovo salmo e un comune statunitico. Parole di ricordo, come lo stesso Benassi ha voluto, anche dall'onorevole Bernardi. Corone di fiori rossi, così come ha voluto, nessun rito religioso, la salme è stata composta al cimitero di Coviolo, dove sarà cremata. Torniamo alla cronaca, violenta rapina a Scandiano, dove una sessantenne stava camminando in via Pellegrini, in pieno centro, in compagnia del marito, quando è stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto che le ha strappato la borsetta facendola cadere. Il rapinatore ha anche avuto una collutazione col marito, che lo ha inseguito, senza riuscire però a fermarlo. Condotta all'ospedale, i medici le hanno riscontrato la frattura dell'omero, oltre ad un trauma facciale, indagano i carabinieri. I tagli dei costi della politica sono soprattutto le province ad essere nel mirino. La presidente della provincia reggiana, Sonia Masini, difende naturalmente l'ente locale, pur ammettendo la necessità di un suo rinnovamento. Mi sembra una discussione impazzita, in cui sembra che un ente possa risolvere una crisi che è di carattere mondiale, per la quale occorre mettere mano all'assetto dello Stato italiano, dal Parlamento al più piccolo comune. Le province devono stare dentro un processo di trasformazione, non siamo certi a difendere uno status esistente, bisogna ridefinire funzioni e dimensioni territoriali. Però è molto ingenerosa questa campagna contro gli amministratori, contro chi si impegna. Dobbiamo stare attenti a fare discussioni troppo generali e troppo superficiali. Vedo questo rischio. discutiamo pure, approfondiamo e facciamo presto le scelte che servono. 370 anni circa, tanto il tempo che ha impiegato uno degli ultimi quadri dipinti da Guidoreni per raggiungere la città per la quale era stato commissionato. Eppure la distanza tra Bologna e Reggio si percorre in tempi davvero più brevi. Così questa mattina finalmente il tragitto è stato percorso, il quadro raffigurante La Madonna che appare a San Francesco d'Assisi è pervenuto al Museo Diocesano che lo ospiterà fino al 12 dicembre per un'esposizione che segna il punto d'arrivo di studi e ricerche che gettano nuova luce sull'attività degli ultimi anni del pittore bolognese. Nei giorni scorsi è raggiunto in cattedrale l'altro dipinto, il celebre crocifisso che dal 1783 non era stato più collocato nella grande ancona di marmo di Porto Venere presente nella Cappella Estense. La mostra sarà inaugurata il prossimo giovedì 22 settembre alle ore 17 in cattedrale. Sarà dedicato al centocinquantesimo dell'Unità d'Italia il Festival Francescano che si celebra a Reggio dal 23 al 25 settembre. Una a tre giorni di appuntamenti, convegni e concerti tra gli ospiti politici come Romano Prodi e Giuseppe Pisano, l'intellettuale reggiano Alberto Melloni interpellato sulla storia della Chiesa, la musica del pianista Giovanni Allevi, la voce di Nicolo Fabi, il giornalista Gian Antonio Stella, autore del celebre libro La Casta. Come sapete siamo forse l'unica diocese in Italia che ha come copatrono San Francesco d'Assisi, quindi siamo obbligati. No, siamo contenti anche perché gli altri festival sono stati dei momenti importanti che hanno avuto una ricaduta positiva. Sono dei momenti di ricchezza perché da tanti punti di vista, non solo culturale, artistico, ma anche religioso, movimentano un po' anche la nostra Chiesa. Poi in questo caso abbiamo anche alcune collaborazioni importanti, le mostre che sono state più volte citate del RENI e la presenza in Battistero di una reliquia così famosa di San Francesco. Quindi ci sono dei momenti nei quali noi stessi come diocesi daremo un nostro contributo a questo festival proprio perché riconosciamo che c'è un guadagno da questa collaborazione anche dal punto di vista spirituale, pastorale, non solo culturale. Il Festival Francescano è un'occasione straordinaria anche per i francescani, nel senso che è un'occasione per venire in contatto con tutta la realtà di una città. Quindi in questi anni abbiamo avuto l'occasione di collaborare con il comune, ma con la provincia, con la regione, con l'università, con i musei, con le aziende. Ed ora c'è la pubblicità, ci vediamo tra poco. Siamo pronti a ripartire con le notizie. Prima però c'è il consueto riepilogo dei principali fatti di oggi. Al via il primo giorno di scuola per circa 76.000 studenti reggiani alle prese assieme al personale, coi problemi dei tagli e degli accorpamenti degli istituti scolastici. Orazione funebre del sindaco Graziano Del Rio nel giorno dei funerali dell'ex primo cittadino Ugo Benassi, morto a 83 anni. Nuova scossa di terremoto alle 7.34 del mattino con epicentro Canossa, San Polo e Vetto, magnitudo 3.2 della scala Richter. Donna di 60 anni aggredita da sconosciuto in centro a Scandiano mentre passeggiava col marito, rapinata, cade a terra e viene portata in ospedale. Torna a Reggio per la terza edizione il Festival Francescano dal 23 al 25 settembre tra spiritualità, cultura e spettacoli. Domani nell'ambito delle iniziative per la settimana europea della mobilità dalle 7.30 alle 11.30 sarà effettuato il monitoraggio degli accessi in bicicletta al centro storico. Ai ciclisti che passeranno per i 12 ingressi al centro storico sarà distribuito oltre a gadget e materiale informativo Il questionario raccontaci come usi la bici che potrà essere restituito sabato 24 settembre negli spazi allestiti in Piazza del Monte presso Comune in Forma di Via Farini e negli altri luoghi indicati dallo stesso questionario. Da ieri Luzzara ha un nuovo polo socio-sanitario inaugurato nell'area della Casa di Riposo dove ci sono anche le sedi di Avis e Croce Rossa. Sentiamo Antonio Lecce. Taglio del nastro tricolore, inaugurazione ufficiale ieri mattina per il nuovo polo socio-assistenziale di Luzzara annesso la Casa Protetta per Anziani in Via Filippini appena fuori il centro storico del paese. Un investimento importante nell'ex alloggio del custode della struttura edilizia che a un tempo aveva ospitato un istituto scolastico professionale. La locale Aspe, azienda servizio alla persona, proprietaria dell'immobile ha concesso l'uso del fabbricato in cui è stata realizzata la sede dell'Avis quella della Croce Rossa, oltre ad ambulatori per medici di base e pediatri lo sportello CUP, il centro prelievi, un'ampia sala d'attese e altri spazi di servizio per gli utenti. Un servizio importante, un tempo ospitato in gran parte dai locali del municipio e in parte in altre sedi, ma non certo adeguate e coordinate come la soluzione che è stata trovata con questa nuova realtà polifunzionale a due passi dal centro e con comodi parcheggi a disposizione dell'utenza. Rappresentanti del mondo del volontariato, varie associazioni, autorità provinciali e regionali hanno preso parte all'inaugurazione con il taglio del nastro effettuato da una bambina sotto gli occhi del sindaco Andrea Costa del parroco Don Pier Giorgio Torreggiani dei vertici locali e provinciali di Avis e Croce Rossa. Il folto pubblico è stato poi accompagnato in visita alla nuova struttura e un secondo taglio del nastro si è avuto poco dopo per la sede di Croce Rossa seguito da un ricco rinfresco per tutti gli intervenuti. Si è concluso l'intervento di messa in sicurezza di un tratto della Provinciale 9 in località Gatta di Castelnuovo Monti. I lavori sono costati 130 mila euro e l'intervento ha interessato la Gatta Felina strada fondamentale per la viabilità in montagna. E parliamo ora della festa del volontariato a Guastalla. Tra le iniziative è anche un convegno sul rapporto tra volontariato e sanità pubblica. La sanità pubblica senza l'azione del volontariato sarebbe davvero in grande difficoltà anche in territori attivi come l'Emilia e la zona reggiana in particolare. Non è certo la scoperta dell'acqua calda ma è decisamente una realtà che va sottolineata e che è emersa con forza nel fine settimana alla festa del volontariato che è stata allestita pure a Guastalla negli spazi del Palazzo Ducale con gli stand delle varie associazioni come l'Avis, Associazione Volontari Ospedalieri, Amici del Deospital Oncologico, Associazione Prevenzione Tumore, Aido, Amici del Cuore e altre ancora che hanno promosso le loro attività attraverso materiale informativo e gadget per i visitatori. Ma è stata pure l'occasione per fare prevenzione con gli esami di pressione e colesterolo fino a un incontro su il volontariato e la sanità pubblica con relatori Pietro Messori, portavoce del Movimento del Volontariato Reggiano, Valerio Annessi, primario della chirurgia dell'ospedale di zona, Mauro Silingardi della medicina dell'ospedale. Sono stati forniti i numeri del volontariato reggiano ma soprattutto l'importanza di queste realtà associative per un'adeguata prevenzione di tante malattie attraverso le iniziative che si svolgono sul territorio e che evitano agli operatori sanitari di dover curare poi un numero di pazienti che sarebbe certamente più elevato in caso di mancanza di volontariato locale. La festa si è poi conclusa con una cena al Circolo Sportivo di Tagliata con i rappresentanti di tutte le associazioni del territorio. Ed ora ci fermiamo ancora una volta perché c'è la pubblicità. Teletricolore Meteo Il meteo è offerto da Arno L'informazione di Reggio, il tuo quotidiano di Reggio e Provincia. Ed ecco le previsioni del tempo su Reggio e Provincia per domani, martedì 20 settembre, per tutta la giornata di domani condizioni del cielo sereno o poco nuvoloso con le temperature che oscilleranno tra i 13 e i 24 gradi. Teletricolore Meteo Il meteo è stato offerto da Arno L'informazione di Reggio, il tuo quotidiano di Reggio e Provincia. E noi siamo pronti per riepilogare le principali notizie del giorno. Al via il primo giorno di scuola per circa 76 mila studenti reggiani alle prese assieme al personale con i problemi dei tagli e degli accorpamenti degli istituti scolastici. Orazione funebre del sindaco Graziano Del Rio nel giorno dei funerali dell'ex primo cittadino Ugo Benassi, morto a 83 anni. Nuova scossa di terremoto alle 7.34 del mattino con epicentro Canossa-San Polo-Evetto, magnitudo 3.2 della scala Richter. Donna di 60 anni aggredita da sconosciuto in centro a Scandiano mentre passeggiava col marito, rapinata, cade a terra e viene portata in ospedale. Torna a Reggio per la terza edizione il Festival Francescano dal 23 al 25 settembre tra spiritualità, cultura e spettacoli. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo una buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti.